Sì, una lettera al Presidente del Consiglio per sottolineare quello che è l'emergenza del Veneto, un'emergenza che è stata dimenticata e che oggi vedo fortunatamente ripresa a livello nazionale. Ma un'emergenza e le colpe sono sempre degli altri, la Regione non ha responsabilità nei ritardi che ci possono essere stati? Ma guardi, noi non siamo i padroni del rubinetto, quindi l'acqua arriva e noi cerchiamo di fare in modo che le opere siano fatte. Abbiamo realizzato 925 opere in due anni e mezzo, direi che abbiamo fatto i salti mortali. Prova ne sia che è piovuto più del 2010 e non abbiamo avuto i danni del 2010. Cosa chiedete adesso? Chiediamo che i nostri Veneti, dalla montagna con la neve a tutti gli altri Veneti che hanno avuto i problemi dell'alluvione, siano ristorati dei danni che hanno avuto. Abbiamo avuto un sacco di danni peraltro nelle opere pubbliche, le strade, la viabilità, le frane, gli smottamenti che saranno veramente milioni di euro da recuperare. Stato di calamità, perciò poi il Commissario, è questa la richiesta che fate? Il Commissario arriva da sé, lo Stato di calamità è l'occasione per fare una contabilità certa e certosina a livello Veneto in modo tale che poi tutti i comuni, tutti i cittadini possano essere ristorati come deve essere. Opere pubbliche come si deve intervenire adesso con questa nuova emergenza, con i problemi che si creeranno nel verificare i danni che ci sono stati? Beh, quella delle opere pubbliche è una grossa emergenza, i singoli proprietari, quindi i comuni, le istituzioni faranno una breve contabilità della messa in sicurezza e poi del ripristino dell'opera e dopodiché la contabilità finale la farà la Regione inviando tutte le richieste a Roma. Il solito problema è che si interviene dopo invece di fare prima e si potrebbero evitare danni e costi che vengono successivamente dopo un'ondata di maltempo. Ah, questo è il Made in Italy, no? Abbiamo oltre 2 miliardi all'anno di costi da danni da eventi atmosferici e non capiamo che se noi impiegassimo queste risorse per fare la messa in sicurezza avremo dei territori più sicuri, più competitivi, immaginate solo gli nostri imprenditori e potremmo anche nel tempo risparmiare molto di più. Ma sono tutti i tempi per una globalisca nazionale? Beh, lo erano nel 2008, quando ero a governo nel 2008 come ministro parlavamo di una polizza assicurativa per i 60 milioni di cittadini. Altri paesi lo fanno, le assicurazioni la considerano allettante nel momento in cui sono tutti ad avere la polizza. In Chiave Veneta non sta in piedi, abbiamo incaricato proprio un broker per fare questo studio, questa analisi nel 2010, non sta in piedi nel senso che se obbligassimo anche tutti i veneti ad assicurarsi, l'assicurazione creerebbe tutto un sacco di vincoli per cui non conviene assicurarsi. La vera partita è che per avere un vero indennizzo, non aver franchigia e non prenderci in giro bisogna che la polizza sia una polizza che abbia un bel bacino di abitanti, 60 milioni di italiani sono un buon bacino. Questa è anche l'alluvione, la catastrofe di molte opere pubbliche che se ne sono andate, che sono ammalorate, che sono oggetto di smottamenti, di frane e questo è quello che pesa molto. La contabilità la sapremo però al ritiro dalle nevi perché abbiamo anche il tema nevi, e abbiamo una slavina che ha letteralmente falciato un impianto di risalita nella marmolada e non sappiamo cosa troveremo sotto le nevi quando si saranno ritirate. Responsabilità governo e responsabilità di governi regionali, come ci può essere un'integrazione e un concreto operare? Guardi, innanzitutto con un obiettivo unico, che prima vengono i cittadini e vengono i territori. Noi abbiamo sempre fatto la nostra parte, sono stato commissario dell'alluvione, abbiamo indennizzato tutti i cittadini e abbiamo soprattutto realizzato 925 opere. Se ci sono dei bacini di lavorazione tipo Caldogno è grazie a noi, il governo deve fare la sua parte.